La San Giovannese si è presentata a ranghi completi alla ripresa degli allenamenti in vista del secondo impegno interno consecutivo, quello con la San Maurese. Una delle realtà nuove tra gli avversari e rappresenta un altro borgo romagnolo, luogo foriero, peraltro solo di sorrisi in campionato prima del Forlì. Infatti contro la San Giovanni sono già caduti sia il Rimini che il Romagna a centro. Tornerà in ogni caso convocabile Mugelli a centro campo ed è da dare per scontato il recupero definitivo di calori in difesa dopo l'ingresso a gara in corso e quindi a meno di problemi inattesi nelle prossime ore per il trainer ci saranno soltanto problemi di abbondanza. È un finale di girone peraltro che presenta quattro scontri consecutivi con chi non ha una facile condizione di classifica dopo la San Maurese. Infatti ecco il tutto cuoio, la Vigor Carpanito e la Colligiana prima della chiusura con il lentigione. Questi 360 minuti prossimi possono in caso di risultati positivi anche far allungare, in modo importante sui play-out attualmente peraltro già distanti i nove lunghezze, ovvero tre gare. È chiaro che non perdendo poi nessuno di quei quattro confronti, oltre l'80% della permanenza in categoria sarebbe acquisito numeri alla mano.